Era Armando, è mio suocero, e mi raccontava che dal 1940 era già chiamato al militare, ha fatto anni di guerra, un po' qui, un po' là, ritornava, fino a che è stato andato in Jugoslavia. In Jugoslavia è stato poi preso dai tedeschi e portato nei campi di lavoro in Germania nel 1943 e poi è stato liberato nel 1945, ad aprile del 1945. Nel 1954 ha già ricevuto dal Capo dello Stato la medaglia al merito di guerra e oggi la medaglia d'onore è al merito.